13. Non saprei dipingere lo stato dell'animo mio. Provavo una sensazione di sgomento indicibile vedendo dinanzi a me la necessità di una decisione che mi rendeva disperata. Ippolito e Virginia sospettavano i sentimenti che andavano svolgendosi in me. L'ira di entrambi poteva produrre qualche terribile sventura. Era mio dovere scongiurarla e il solo mezzo per ottenere questo scopo era il mio matrimonio con Ippolito. Passai la giornata solitaria. La cesila venne a cercarmi per il pranzo ma rifiutai di scendere. Ero oppressa, veramente ammalata. Verso sera il mio tutore bussò per la seconda volta all'uscio di camera mia. Entrò sulla punta dei piedi con tutta l'apparenza di una grande premura. Ero stesa, vestita, sul letto. Si informò con molto calore della mia salute. Disse che tutti deploravano la mia assenza e mi chiese se non era il caso di mandare nuovamente a chiamare il medico. Lo ringraziai assicurandolo che il mio male era poca cosa ed avevo solo bisogno di tranquillità e di riposo. Egli mi prese allora la mano e mi disse vedo che cos'è. Vi siete spaventata stamane per la sciocca scena fatta da Ippolito. L'ho rimproverato come si deve. Delicata e sensibile come siete, la vista di quella povera bestia uccisa, a cui avevate già certamente perdonato, vi ha fatto male. Non pigliate però argomento da ciò per credere che mio figlio abbia un carattere perverso. Egli è disperato per le vostre ripulse e null'altro. Attesi una mia risposta, ma ero angosciata e non potevo parlare. Se voi voleste amarlo un poco, ripigliò il contucci, l'allegria tornerebbe come per incanto nella nostra famiglia. Non vi nascondo che vi sono in questo momento delle minacciose burrasche per l'aria. Virginia, la meno buona dei miei figli, posso ben dirvelo. Ha concepito una sorda gelosia contro di voi. Ha torto, ne sono persuaso, perché Giuliano non aveva una intenzione di ritirare la domanda fatta della di lei Manu. Oggi ancora mi disse che si trova in grado di concludere ogni cosa per Natale. Così rimane irrevocabilmente fissato il matrimonio di Virginia. S'arrestò ancora. Il mio cuore si pose a battere a martellate e uno scoraggiamento più profondo mi invase. Chi avevo dunque sperato perché la notizia di quella preveduta determinazione mi riuscisse tanto amara? Il fatto è che dovetti chiamare a me tutto il mio coraggio per soffocare il singulto che mi sollevava il petto. Il mio tutore stette ancora un poco in silenzio. Poi ripigliò con crescente e bugiarda dolcezza nell'accento. Avevo sperato che i miei due figli si sarebbero maritati nello stesso giorno. Se il Natale vi sembra troppo vicino si potrebbe ritardare dalquanto. Ma dovete comprendere voi stessa, cara fanciulla, che il momento di pronunziare la sentenza di Polito è giunto. Egli non può più vivere nello stato in cui è. Si figura di essere odiato e se ne dispera. Io non credo ad un'avversione che sarebbe mostruosa e ingiusta da parte vostra. Credo piuttosto ad una ritrossia naturale in una giovinetta della vostra età, educata come lo foste. Ma avete l'obbligo di vincere voi stessa? Rispondete una volta. Quale determinazione avete presa? Sollevai lo sguardo verso il mio tutore. Egli teneva ancora una delle mie mani e voleva continuare a mostrarsi tenero. Ma nei suoi occhi brillava una luce che mi parve sinistra. Il suo viso pareva smentire le sue parole d'affetto e dirmi guai a voi se non fate a modo mio. Reclinai il capo. Sentivo il peso di un'inesorabile fatalità. Dovevo io forse espiare qualche colpa dei miei parenti? Colpa terribile agli occhi di quell'uomo che aveva assunto liberamente l'incarico di proteggermi? Sì, vi doveva essere qualche ruggine antica tra le nostre famiglie e toccava a me cancellarla. Tentai di aprire le labbra per formulare un'adesione. Ma la parola mi morì in gola. Nella condizione in cui siete, ripigliò allora il contucci, il matrimonio progettato, posso dirlo con orgoglio, è una fortuna per voi. Il nome di vostro padre è rimasto puro alla faccia del mondo. Io solo conosco il passato. E le prove che osservate di questo passato vergognoso verranno distrutte da voi stessa quando sarete mia figlia. I Polito e Virginia sono e saranno sempre nella piena ignoranza di quanto riguarda la vostra famiglia. Voi siete e sarete sempre per tutti l'ultima discendente di una nobile e onorata stirpe. Potrete portare fieramente il vostro nome per tutta la vita. Ogni cosa è ormai regolata, perché il vostro sposo possa accoppiare al suo il nome aristocratico dei Monteroni. Tutto va dunque a seconda. Non manca che una vostra parola. Pronunziatela. Il contucci strinse fortemente la mia mano. Quella stretta era quasi violenta, compresi che egli andava perdendo la pazienza. Una resistenza maggiore a che mi avrebbe condotta, a guai interminabili per me, a pericoli seri per Giuliano, che sentivo d'amare immensamente in quell'istante. Radunai perciò tutto il mio coraggio. E dissi con voce tremante. Mi rimetto interamente a voi. Farò quello che volete. Credevo con queste parole di scongiurare ogni procella. Ahimè quanto mi ingannavo. Ah, finalmente! Esclamò il contucci con una tale esplosione di gioia che mi diede la misura dei suoi timori. Mi vedete al sommo soddisfatto. Corro a regare la buona novella in famiglia. Non volete scendere un pochino con me? Risposi di no, con vero sgomento. Poi soggiunsi con maggior tranquillità. Pregate Ippolito di scusarmi. Ditegli che sono davvero sofferente. Vi prometto di essere buona con lui, se egli si mostrerà con me meno violento. Ora sarà un altro uomo, disse il contucci. Egli ha il cuore eccellente. È un poco rozzo. Non lo nego, ma voi ne farete un gentiluomo quando vorrete. Non avete idea come è giunto ad amarvi e a venerarvi a poco per volta. Ha un vero culto per voi. Sarete felici insieme, non ne dubito. Il mio tutore uscì veramente beato e io ripiombai esausta nel mio letto. Tutto era dunque finito per me. Avevo pronunziata io stessa la mia sentenza. Non avrei mai potuto amare il mio sposo. Lo sentivo. Fra lui e me c'era un abisso. La mia solitudine morale sarebbe stata intera. Ma il mio pensiero almeno rimaneva libero. Provavo un'amarissima soddisfazione nel dirmi che forse non ero indifferente a Giuliano. Se egli non fosse stato vincolato a Virginia, se non fosse stato un gentiluomo pieno d'onore, schiavo della propria parola, avrebbe forse potuto amarmi. In quanto a me lo amavo, sì, lo amavo. E avrei cercato un conforto nel mostrarmi degna di lui. Avrei compito con coraggio e dignità il sacrificio che mi ero imposto. Oh, la dolorosa serata che passai. La Cesira venne più volte a vedere se abbisognavo di qualche cosa. Quindi Virginia, mandata certamente dal padre, si presentò per allegrarsi con me. Mi baciò con due labbra di ghiaccio e pronunziò parole d'affetto che il suono aspro della sua voce smentiva interamente. L'ultima fu la cieca. Ella pure sapeva la grande novella e mi abbracciò e mi benedisse con tale tenerezza e tale espressione di gioia che mi torse ogni volontà di confidarmi con lei. Supplicai tutti che mi lasciassero sola. Era quanto bramavo per il momento. Non so a quale ora finì con l'addormentarmi. Avevo rifiutato ogni cibo e la debolezza mi tenne in preda a una specie di dormiveglia penosa, sulla cui durata non rimase in media precisa. So che fui poi molestata da sogni affannosi. Ero con Ippolito in una foresta. Spirava un gran vento. Ero tutta ghiacciata. Egli voleva riscaldarmi. Avviluppandomi nel suo mantello, mi dibattevo chiamando Giuliano e mio soccorso. Quando fui ridesta da due labbra pungenti che si posavano sulla mia gota. Il mio sogno tormentoso doveva essere una specie di incubo perché non mi fu possibile di sollevarmi tosto sul letto. Ero desta eppure immobile come se fossi tenuta in ceppi. Intesi come un soffio al di sopra di me e afferrai non so come il mormorio di queste parole. Povera fanciulla che tu possa essere felice. Scacciai finalmente l'incubo che mi opprimeva e balzai seduta sul letto. Guardai intorno. Ma l'oscurità era profonda e non distinzi assolutamente nulla. Un rumore però mi ferì l'orecchio. Qualcuno era in fondo alla camera e si dirigeva verso l'uscita. Un grande spavento mi colse e mi posi a chiamare vivamente. Marta! Marta! Dovevo essere un poco fuori di me perché la zia Marta si trovava con tutta probabilità in camera sua e non poteva intendermi. Rimase io stessa meravigliata quando udì, di là dalla mia porta, la sua voce che riprendeva. Eccomi signorina, eccomi! L'uscio si aperse. È malata! Ha bisogno di qualcosa! Continuò la cieca, appressandosi al mio letto. La presi per mano e le dissi con voce agitata. Accendete il lume! Qualcuno era in camera mia! Quale follia! Esclamò la vecchia donna. Sì! Ripiglia irritata. Ippolito certamente. Mi ha dato un bacio! Oh signorina! Disse la zia Marta con accento offeso. Come può pensare una cosa simile? Non sa che io ero costì vicino e non avrei mai permesso a mio nipote neppure di appressarsi alla sua camera. Arrossì del mio pensiero. Il lume era acceso. Non vedi nulla di sospetto. E che facevate qui vicino? Chiesi alla cieca. Sa bene che sono un poco pazza. Lo dicono tutti! Rispose mezzo sorridente. Ma non faccio male a nessuno e non permetterei mai che se ne facesse ad anima viva. Era finita. Dovevo avere sognato. Ma non ero convinta. Sentivo ancora l'impronta acre di due labbra sul mio viso. Non potei persuadermi d'essermi illusa sino a questo punto. E per tutta la notte fantasticai, mio malgrado, sul notturno visitatore, obbliando per un istante il presentimento delle sventure che pendevano sul mio capo. Parte seconda. Uno. La mia sorte era dunque irrevocabilmente decisa. Avevo tentato in vano di arrestarmi sul pendio fatale. Un istante di sgomento mi aveva precipitata in fondo all'abisso. L'adesione data al mio matrimonio con Ippolito non apportò nella famiglia una perfetta serenità, ma qualche cosa almeno che mi assomigliava. Nel domani non potei evitare di scendere a pranzo. L'incidente della notte, che mi ostinavo a non credere un sogno, aveva lasciato in me un inturbamento profondo. Persistevo nel pensiero che Ippolito avesse avuto l'ardire di recarsi in camera mia. Se non che le parole che avevo inteso mormorare dal notturno visitatore mi gettavano in un mare di incertezze. Quando entrai nel salotto da pranzo, ove tutti si trovavano già radunati, il contucci mi venne incontro, mi prese amorevolmente per la mano e mi condusse verso il vano di una finestra, in cui stava Ippolito solitario. «Vi presento un pentito», disse egli. «Mio figlio è sommamente dolente delle foglie commesse ieri e promette di essere più ragionevole per l'avvenire». Il mio tutore si allontanò e io rimasi di fronte ad Ippolito. Il contegno del giovane era dimesso, quasi umile. Pareva implorare da me una parola d'affetto, ma le donne, quando non amano o damano altrove, sono crudeli. Dio non ebbi la forza di schiudere le labbra. Egli si chinò allora e mi disse con voce tremante e sommessa «Vi giuro di amarvi come desiderate. Se posso soltanto sperare di non essere respinto, non mi mostrerò mai più violento. Ditemi almeno che non mi detestate». Aveva presa la mia mano e la recò timidamente alle labbra. «Non ho mai detestato nessuno», dissi con voce debole. Fu tutto quello che potei rispondergli. Comprendevo bene che ero spietata, me ne irritavo quasi contro me stessa, ma vedevo dall'altro capo della sala, Giuliano, il quale teneva gli occhi fissi su di noi e per nulla al mondo avrei avuto in quel momento la forza di usare una cortesia al mio fidanzato. Egli fu evidentemente malcontento. Sedemmo a mensa muti, impacciati. L'ingegnere Sermanni ebbe lo spirito di non rallegrarsi con noi, sarebbe stato un epigramma. Tentò invece di fare il possibile per animare la conversazione, che cadeva ad ogni istante, parlando dei lavori della miniera, a cui si era interamente dato in quegli ultimi giorni. Essi erano ormai in buon punto e mancava solo qualche d'uno che li sapesse dirigere durante la sua assenza. E a questo proposito Giuliano parlò dell'incontro fatto, in quel mattino medesimo, di un tale che aveva conosciuto altra volta in Australia e che sarebbe stato capacissimo di continuare l'opera da lui cominciata. Era costui un italiano, il quale lavorava nelle miniere della nuova galles che l'ingegnere aveva visitato alcuni anni prima. Egli non conosceva veramente alcuno degli antecedenti di quell'uomo, ma l'aveva visto all'opera e lo sapeva intelligente e probo. Si chiamava Monti. Al momento in cui Giuliano si trovava in Australia, aveva già posto in serbo una somma rilevante e nutriva la speranza di tornare quanto prima in Italia. Ma la sorte gli era stata crudelmente sfavorevole. Il bastimento su cui navigava, giunto quasi in vista delle sponde europee, era stato assalito da una tremenda bufera e aveva naufragato miseramente. Il povero Monti poteva salvarsi a malapena rimanendo una notte intera a cavalcioni sopra una tavola, ma nel trambusto di quella terribile notte aveva smarrito il portafogli, in cui stava rinchiusa tutta la sua fortuna. Le vicende che il meschino gli aveva narrate sommariamente avevano commosso assai l'ingegnere Sermanni. Non sapeva per verità perché il Monti si trovasse in quelle vicinanze. Forse qualcuno aveva potuto parlargli della miniera del Contucci ed era venuto per cercarvi lavoro, ma non aveva voluto ammetterlo e quantunque povero non vestiva l'aspetto di chi si raccomanda per ottenere qualche cosa. Tuttavia Giuliano pensava che sarebbe stato un eccellente direttore di miniera. Egli avrebbe parlato in questo senso, se non si fosse creduto in obbligo di discorrerne prima col suo futuro suocero. Costui si meravigliò non poco dell'esistenza a Monteroni di una persona che egli, quantunque sindaco, non conosceva affatto. Parve anzi provare una certa inquietudine a tal proposito e insistette presso l'ingegnere perché prima di partire lo mettesse in relazione col Monti. Ma Giuliano rispose che sarebbe stato impossibile vederlo subito, stante che il signor Monti si disponeva appunto a lasciare il paese quando egli l'aveva incontrato. Vi si trovava certamente da poco e si spiegava perciò che il sindaco stesso non avesse avuto notizie di lui. Egli credeva però di ritrovarlo a Firenze e allora l'avrebbe rinviato a Monteroni presso il signor Contucci. L'ingegnere doveva infatti lasciare il castello il domani mattina e ciò tanto a motivo delle sue occupazioni quanto per i preparativi del matrimonio. Voleva condurre la sposa a Firenze e fece a Virginia mille richieste sulla parte della città in cui avrebbe preferito dimorare, sui suoi gusti in fatto di mobilia e simili cose. Virginia si animò e momentaneamente almeno depose il cipiglio che da parecchi giorni oscurava il suo viso. A me egli non diresse la parola se non quando accennai di volermi ritirare, venne allora francamente innanzi con la mano tesa e mi disse Io parto domattina per tempo signorina, mi permetta dunque di salutarla sindora e mi lasci sperare che porterò meco la sua amicizia. Tra poco faremo parte della stessa famiglia e ci vedremo spesso lo spero. Avevo lasciata cadere la mia mano tremante nella sua, egli la strinse con una forza ben superiore a quanto richiedeva la congiuntura, poi la ritenne prigioniera. Saremo come due fratelli, disse io cercando di rendere tranquilla la mia voce. Ella non può dubitare della mia amicizia. Giuliano mi ringraziò con calore. Io fui obbligata a ritirare la mia mano dalla sua, tanto pareva poco disposto a lasciarla da se stesso in libertà. Ero vivamente commossa e mi affrettai ad abbandonare il salotto. Nella camera tigua trovai Polito che mi attendeva. E a me non volete dare la buonasera? Disse egli tra il timido e il malcontento. Non mi volete permettere di accompagnarvi per una volta almeno sino in camera vostra? Non ne conosco quasi la via. Lo guardai fisso pensando che mentiva. Mi vorreste far credere che non avete mai posto il piede in una camera che in casa vostra? L'ho veduta certamente molte volte prima che l'abitaste, rispose, ma da che vi appartiene non vi sono mai passato neppure vicino. Potreste giurarlo? Dissi con vivacità. Ippolito mi guardò con una sorpresa che mi parve sincera e stette un momento prima di rispondermi più per meraviglia che per esitanza. Lo giuro, disse finalmente con serietà, e giuro di non porvi mai il piede senza il vostro permesso. Siete contenta? Non so più quello che replicai. Egli mi parlò finché non giungemmo all'uscio di camera mia, ma non compresi una sola delle sue parole. Quest'unico pensiero mi dominava. Se non era Ippolito, chi poteva essere stato il notturno visitatore? E quando fui sola, rinchiusa a doppio giro, quel pensiero divenne più insistente, più molesto. No, la mia non era stata un'illusione. Un uomo era penetrato nella camera da me occupata. Ben mio malgrado, il nome di Giuliano mi si presentò alla mente. Non potevo credere il giovane ingegnere capace di tanto. La degnità del suo contegno, il suo carattere serio, dovevano escludere un tale sospetto. Eppure ero quasi convinta del contrario e me ne adiravo. Giunsi al punto di invocare un mezzo qualunque per respingere quest'idea tormentosa. Pensai al mio triste avvenire, alle lotte che mi attendevano, ma tutto ciò mi condusse ad una conclusione ben altrimenti disastrosa. Vale a dire che avrei potuto essere felice soltanto divenendo sposa Giuliano. Era una specie di allucinazione da cui non giungevo a distrarmi. Mi posero vistare nei miei canterani per cercare un'occupazione materiale grazie alla quale il mio spirito giungesse ad acquetarsi alquanto. Avevo le cose mie in disordine da tanto tempo. Ahimè, vivevo in un'apatia che nulla poteva vincere. Tutto quanto mi riguardava materialmente non mi importava più. In quella sera voli domare una setterista tendenza e nel frugare la parte più recondita del canterano sentii sotto le mie dita un coinvolto di carte che riconobbi tosto. Era quello che la mia povera madre moribonda mi aveva consegnato. Non l'avevo dimenticato, no, dopo di averlo colaccelato in fondo al cassettone, ma consigliata dalla cara morente stessa a non aprirlo che in una grave congiuntura, l'avevo lasciato intatto, per rispetto nei primi tempi del mio soggiorno presso i contucci, e più tardi quando seppi le vergogne della mia famiglia, per una specie di ripugnanza a sfogliare quelle antiche memorie, le quali non potevano che confermare il fatto desolante già da me conosciuto. Ma quando tenne in mano il piego suggellato, mi dissi che il momento era certamente giunto per me di leggere le carte confidatemi dalla mia povera madre. Baciai e ribaciai quell'unica eredità che mi rimaneva dei miei cari, mi sembrava qualche cosa di tanto sacro che esitai a lungo prima di infrangerne il suggello. Le mie dita tremarono nel compiere quell'atto, secolari accolti stavano dei segreti. Ero io, giovinetta non ancora quadrilustre, veramente in grado di pigliarne conoscenza, eppure mia madre me li aveva confidati. Nessuno mi poteva consigliare, e non era forse cosa impossibile che io avessi a trarre qualche utile insegnamento da quelle memorie. La busta conteneva due involti separati suggellati, sopra uno dei quali stava scritto «lettere di Graziano». Erano di mio padre. Il mio cuore balzò al pensiero di leggere i suoi caratteri. L'altro involto, meno voluminoso, portava questa indicazione «lettere del Contucci». Andava unita a due involti una lettera aperta, a me diretta dalla mia povera madre. La santa donna cominciava con accenti di tenerezza che mi commossero vivamente. Mi chiedeva perdono di essersi occupata troppo poco di me. «Fui una cattiva madre», diceva. «L'affetto di sposa mi ha fatto obbligare talvolta che avevo un piccolo angelo a cui dovevo consacrare tutta la mia vita». Il pensiero del padre mio l'aveva talmente dominata che, assorta nel suo dolore, non aveva saputo difendersi dalla rovina che li invadeva poco a poco. Così era giunta al momento di abbandonarmi povera, senz'altro protettore che un uomo a cui la ragione le diceva bensì di confidarsi, ma contro il quale un segreto istinto del cuore la consigliava di stare in guardia. Anche mia madre, dunque, aveva un'istintiva ripugnanza per i contucci, ma ella soggiungeva che non aveva la scelta, da poiché una speranza insensata che l'aveva mantenuta in vita fino allora non si era ancora abberata. Questa speranza dovevo comprendere che riguardava il padre mio, mio padre. Ma esso era morto da tanto tempo. In quale maniera mia madre poteva concepire qualche speranza pensando a lui? Stetti un istante assorta in un turbinio di pensieri che si affollavano nel mio cervello. Cercai finalmente di scacciarli, ripigliando a percorrere la lettera di mia madre. Ella mi diceva che il contucci aveva avuto qualche torto verso di lei, torto di cui non intendeva parlarmi. Aveva perciò raccolte le di lui lettere da essa possedute, ma mi supplicava di non intraprendermi alla leggera la lettura. Non sapeva in quale momento avrei aperto il piego che mi confidava. In ogni caso mi consigliava riflettere bene prima di procedere innanzi. Se il contucci avesse fatto verso di me il suo dovere, se io avessi appreso ad amarlo, se fossi entrata o fossi stata per entrare a far parte della sua famiglia, dovevo bruciare le sue lettere. Sarebbe questo un dovere per me. Se invece avevo qualche ragione di temerlo, se avevo allagnarmi di lui, potevo leggere senza esitanza ciò che l'involto conteneva. Lasciai cadere il capo sul petto piena di tristezza e di scoraggiamento. Mia madre aveva dunque preveduta la possibilità di un'unione tra il polito e me. Se fossi stata per entrare a far parte della famiglia con Tucci, l'allusione era chiara e colpiva soprattutto nel segno. Mia madre non disapprovava un tale matrimonio. Che mi rimaneva da fare? Procedere innanzi con rassegnazione e bruciare più tardi le lettere del mio tutore. Le posi da parte, ritornai per la seconda volta, sebbene con la morte nell'animo, all'interrotta lettura. Un'eguale cautela mi era raccomandata circa le lettere infinitamente più preziose del padre mio. Dovevo pensare che bisogna procedere bene a rilento prima di giudicare i propri genitori, poiché le azioni più riprovevoli all'apparenza possono avere la loro scusa. Ciò che ella mi diceva non doveva affiggermi in alcuna maniera nel caso in cui nessuno mi avesse mai parlato di mio padre. Se ciò fosse avvenuto, se la memoria del conte Graziano fosse stata sempre rispettata dinanzi a me, dovevo frenare ogni curiosità e distruggere le lettere del mio genitore come quelle del contucci. Ma purtroppo ella temeva il contrario. Temeva che la mia vita potesse essere funestata e turbata dalle persone che mi circondavano. Mi autorizzava allora a leggere ogni cosa, pregandomi di rispettare ed amare ugualmente la memoria di coloro che mi avevano dato la vita, per riguardo, se non altro, alle loro sventure. Sì, diceva essa, io fui delle più sventurate, eppure provo un vero rammarico di dover morire. E sai perché? Perché un presentimento, una speranza, si agita tuttavia in fondo al mio cuore. E questo presentimento, questa speranza, si compendiano in quattro parole. Tuo padre non è morto.